Partenza della seconda tappa del Tour Zervagian con Luca Chirico in maglia Torcu. Luca, una tappa che ha molti trabocchetti e potrebbe essere utile alle tue caratteristiche? Sì, oggi ho visto il percorso, è un bel percorso, abbastanza duro, con l'ultima salita posta praticamente a 25 km all'arrivo, lunga, 6-7 km, e vediamo come si metteranno le cose. Oggi c'è anche vento, quindi è possibile che abbiamo vento laterale lungo praticamente tutto il percorso perché si va solo in una direzione, e io aspetterò l'ultima salita e vediamo cosa si può fare lì, al limite arrivare in un gruppetto in volata, sono abbastanza veloce, e giocarmela in quel modo. Questa nuova esperienza con la maglia Torcu come è iniziata? Praticamente io ho iniziato a febbraio, quando praticamente ero quasi rassegnato, però dopo vari problemi che ho avuto l'anno scorso ho aspettato tanto una squadra, poi praticamente è andata male a gennaio, e a gennaio quando ho saputo purtroppo i contratti sono chiusi, le squadre, le rose sono chiuse, e ho dovuto accontentarmi, però devo dire che può essere anche la scelta giusta perché mi lascia tanti spazi qua. Grazie a tutti.